Apriamo domani con un gruppo da poco costituitosi di giovani, giovanissimi. Sono cinque artisti che provengono da Milano, tre hanno fatto un percorso alla Paolo Grassi, sono attori, sono danzatori, coreografi, altri due provengono dall'Accademia di Brera, sono scultori. Quindi è un ensemble veramente un po' strano, ma sono dei grandi creativi. Sono molto contento di aprire questa diciottesima edizione con questo gruppo. Devo dire, penso che sia un gruppo molto promettente e questo mi fa piacere. Questo gruppo l'anno scorso si presentò con un video, Rab Express, partecipò al premio Interfaccia Digitale, e vinse una menzione speciale e da quella volta l'idea di portare quel video in scena. Quindi in questo tempo il gruppo praticamente ha lavorato a ciò che era in video, a portarlo in palcoscenico attraverso proprio una trasposizione delle immagini in live performance. Per questa prima settimana poi si continua il 4 e il 5 con la sezione Videobox. Ecco, vorrei ricordare che dal 1 settembre al 30 ottobre avremo ben 20 serate di performance, dunque spettacolo dal vivo, e 12 serate che fanno parte della sezione Videobox, dove presenteremo opere in video di artisti da Israele, Palestina, Italia e da altri paesi. E il 4 proprio sarà una serata dedicata a Luca Silvestrini, che è un coreografo di Iesi, ma che già da 25 anni lavora a Londra, nell'ambito del sociale. Su www.hangardfest.it c'è tutto il programma e lì ci sono tutti i link, i rimandi a Live Ticket, che è la biglietteria elettronica. Potranno accedere al teatro soltanto gli spettatori muniti di Green Pass o di tampone effettuato nelle 48 ore. Il protocollo sarà molto importante rispettarlo nel teatro, ma in tutti i luoghi di spettacolo.